E anche in questa giornata, in questa mattinata, siamo pronti ad entrare ovviamente come sempre in Piazza Firenze 12 a Milano da Speedy Store come ogni martedì abbiamo con noi anche oggi Alberto che salutiamo. Buongiorno! Ciao a tutti, buongiorno! Allora anche oggi naturalmente da Speedy Store ci aspettiamo delle ottime proposte, non è vero? Certo, ogni volta proponiamo un qualcosa di diverso, allora nello specifico oggi visto il tempo uggioso volevo proporvi la linea nuova antipioggia di Speedy perché nella nostra gamma attualmente sono presenti diversi modelli che non hanno la classica colorazione nera dell'antipioggia ma bensì sono giallo fluo con anche delle parti catarinfrangenti perché in queste giornate soprattutto quando piove o comunque c'è nebbia la mattina presto o la sera quando si torna dal lavoro in moto è veramente molto importante rendersi visibili è vero, è vero e in questo caso soprattutto a Milano dove c'è molto traffico, molto movimento è veramente importante risaltare nel traffico e appunto c'è questa gamma giallo fluo esistono fondamentalmente due modelli abbinati poi a un pantalone devo dire che sono anche dei modelli carini da utilizzare come antivento perché comunque hanno una buona vestibilità e non sono svolassanti, non fanno il classico effetto batman effetto batman esatto, effetto batman no, un modello si chiama Rain Cover e l'altro modello si chiama H2 Life, sono due prodotti di punta della gamma Speedy, ovviamente 100% impermeabili antivento e naturalmente noi vi invitiamo, adesso l'abbiamo descritti, abbiamo sentiti descritti in radio, mandatili a vedere e provare direttamente in Piazza Firenze 12 a Milano da Speedy Store a Milano grazie Alberto come sempre e ci sentiremo settimana prossima a settimana prossima, ciao a tutti